Che c... Cosa ti trattiene Batman? Nessuno può resistere a Poison Ivy Eh, ci credo, ci credo Allora, questa cosa mi sembra strana Sembra che i cavalli del re abbiano travolto gli uomini del re Humpty Dumpty Ma che cavolo? Un uomo obeso e calvo, soprannominato Humpty Dumpty A causa della forma ovale, Humpty Dumpty È ossessionato dalla mania di smontare e rimontare qualsiasi cosa Inizialmente i suoi reati consistevano in effrazioni minori Che lasciavano in pezzi piccoli con geni meccanici Poiché Dumpty non era in grado di riassemblarli dopo averli smontati Col tempo però la sua ossessione rigenerò al punto da causare grossi disastri a Gotham E Dumpty arrivò a cercare di aggiustare la nonna violenta Smembrandola e tentando di rimetterla insieme come le vicende di Frankenstein Ad Arkham è un detenuto modello Poiché la sua natura tranquilla e il suo fisico imponente lo proteggono dalla pazzia che lo circonda A parte per la nonna eh Poveri il resto È estremamente alto, grosso e forte Di natura tranquilla e ponderata In modo quasi naturale Ripetuti abusi infantili gli hanno causato un grave caso di arresto dello sviluppo L'incapacità di inserirsi nella società moderna O ossessionato dalla mania di smontare e rimontare le cose Aspettato E infatti qui c'è un giocattolo Spontato e vai col potenziamento ragazzi Andiamo col triplo Batarang Batarang triplo Seleziono il gadget Quindi provo un gadget a parte No Eccolo qua infatti, multi Batarang Manca un gadget ragazzi Questa pianta mi inquieta Mi sono premonita anche con una piccola assicurazione Se mi succede qualcosa Loro muoiono Giustamente Heavy mi mette in difficoltà Perché sa che non li lascerò morire Maledetta Andiamo da lei Speriamo che lì Lo scontro con Ivy non sia Troppo duro Era troppo semplice Ti permetterò di distruggerlo Batman Ti ho detto di andare in cella Sono stata una stupida Pensavo che le piante stessero soffrendo Invece stavano crescendo Diventavano più forti Cos'è una pianta T-Rex? Oddio Questo è il Resident Evil 4 Con Salazar e il suo scagnon E il suo braccio destro Lo ricordate? Che poi diventavano quella pianta gigante appunto Incredibile Veramente mi sembra Resident Evil 4 Ma Batman Per carità di Dio Noi cosa dobbiamo fare? Sono più forte Come sarà L'altro praticamente Irrevedibile Ma non è proprio semplicissima Anche perché lei Per poco rimane Aperta Cavolo Vabbè seguiamo lo schema Di Ivy Ottimo Ottimo Oh Ciao No Batman Eh vabbè ragazzi Che so che la Alla prima Va bene Da bene ragazzi Non puoi scomparire Eh sì ragazzi Vabbè ragazzi Non fa niente Colpisciami con il Batman Si lo so Eh sì tesoro Vabbè dai Te lo concedo questa volta Dai Dopo che mi fai questa mossa Vabbè ragazzi Sappiamo quindi Cosa bisogna fare Sono più forte di te No scena Abbiamo solo state Queste piante qui Che lei Ci manda nel terreno Sono facilmente evitabili E non sono affatto un problema Il problema sorge con Le spore che lei lancia Non fai stop 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 Ok Ok Bene 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 Ottimo Bravo Batman Cavolo sbagliato Cavolo sbagliato Cavolo sbagliato Dai esci Ivy No ho sbagliato Con calma Calma Se facciamo le cose di fretta Perdiamo No cacchio Meno male Va bene Va bene Dai Ivy Vieni fuori Troppo presto No No Con calma dai dai Cavolo Ok Rimani fermi Dai un altro colpo L'abbiamo fatto Ah se adesso è già l'esplosivo Non è ancora finita Ah però mi ha dato la vita almeno Grazie Ah Vira ai Ok Ah, quindi c'è un'altra barra, ottimo No, no Diavolo Ok Ok Va bene Ok No Calma No, no, no Cavolo Mamma mia, non pensavo che lo scondo durasse così tanto Mi spiace amore, sei finito Va bene Vabbè ragazzi Sento un po' di fottere per dirla così eh, però... Non potevo mai sapere che... Il combattimento qui era doppio, mannaia... Eh, troppo lento al colpirla, bene... Nooo... C'è, veramente... Ragazzi, in teoria è semplicissimo... Mamma mia, è stato veramente cretino... Un po' di fottere che potevo farlo da prima così... Dove non ti seguo... Vedete... Vedete, è molto molto semplice... Vabbè... La prossima volta... La prossima volta che giocherò button... Mi ricorderò... No, no... E dai ragazzi... Dai, quasi fatto... No, dai ragazzi, però... Mi ricordo che questa volta è davvero... L'ultimo... Ok, se c'è un'altra parte non so se riuscirò a farlo... Noi. Noi. Onore a te Ivy, l'hai fatto penare, però mi dispiace, è tempo che tu te ne vada, fuochi d'artificio. Partecipo alla festa, ok, selezione del gadget, punta, lancia pilota, ah quindi questo è l'ultimo gadget, ok vabbè. Ah mamma mia, poi su noi, mamma mia.